Andrea Reghini, oggi in campo di nuovo dall'inizio, cosa hai provato a tornare in campo e soprattutto sei il protagonista dell'episodio decisivo, cioè il fallo da rigore. Cosa è successo? Ci hai creduto fino all'ultimo su una palla che poteva sembrare persa? No, no, ci ho creduto, ma soprattutto più che palla persa è stata una palla importante di Luca Cigarini. Ho visto la difesa un po' aperta, Cigarini ha messo la palla fra le linee con i tempi giusti e sono arrivato a tu per tu col portiere. Comunque ero già partito davanti al difensore, mi sono messo davanti e se non mi avesse dato un'ancata avrei calciato. Quindi il rigore ci sta tutto, ma la palla di Luca è stata importante, quindi è stata una vittoria fondamentale. Sono molto contento di aver giocato, però come ho detto prima c'è una competizione veramente importante, ma veramente sana. La parola sana è importante quando vuoi vincere un campionato, avere una rosa così con dei giocatori che si mettono a disposizione è fondamentale. Come ti sei trovato a tornare in campo dall'inizio? Che cosa hai provato? No, 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 bene, piano piano mi sta tornando la gamba giusta, i primi giorni sono stati di ambientamento, dovevo conoscere quello che il mister mi chiedeva di nuovo, conoscermi con i compagni, con le caratteristiche. Mi sto trovando ogni giorno sempre meglio, sto entrando sempre di più nel gruppo e quindi insomma trovare minuti, trovare freschezza è una cosa importante per me. Una importante.